Dunque capirete che non è semplice parlare di una figura come Nietzsche in un'oretta e aggiungo anche secondo una linea interpretativa che non è affatto la più diffusa anche se quella che io pratico da parecchio tempo pur avendola via via modificata e corretta forse ma fin da un mio libro molto lontano del tempo che ci intitolava Crisis la crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein già dal titolo combinavo la figura e il pensiero di Nietzsche con pensatori che quasi mai erano stati accomunati a Nietzsche grazie mi faccia la cortesia quando parlo faccio fatica a vedermi di fronte fotografie, fotografie eccetera secondo una linea appunto dicevo che chiaramente non è la più frequentata è da tanti anni, da un secolo che Nietzsche non è più trattato come il letterato ci fu un momento, la fortuna iniziale di Nietzsche fu segnata in Italia d'annunzio per bene una ma anche fuori d'Italia da una versione di Nietzsche poeta profeta da molti molti decenni questa lettura è stata superata ovviamente dalle cose di Heidegger, di Aspers, di Leavitt eccetera eccetera e Nietzsche è stato trattato da filosofo quale è ma sempre all'interno collocandolo in questo l'interpretazione di Heidegger in un grande libro di Heidegger secondo me il più importante libro di Heidegger il Nietzsche proprio che raccoglie le sue lezioni ma pubblicato da Heidegger nel 1960 un libro epocale per questo tipo di studi che colloca con rigore e coerenza la figura di Nietzsche all'interno della storia del destino della metafisica occidentale cioè Nietzsche un filosofo scusatemi le semplificazioni e le provocazioni un filosofo all'Aristotele che chiede che cos'è l'ente? qual è l'essenza dell'essente? domanda della metafisica cos'è l'ente in generale? e non quelle dimensioni dell'ente di cui parlano e di cui trattano le scienze particolari bene però anche questa interpretazione non mi soddisfa non mi è mai soddisfatto perché ritengo che appunto come dice il titolo di questa conversazione Nietzsche vada collocato all'interno di una crisi dei fondamenti del sapere che attraversa tutte le forme del sapere tra 800 e 900 non è una crisi dei fondamenti che riguarda la fisica, la matematica, la filosofia anche certo è in quella grande crisi che Nietzsche va collocato a mio avviso e quindi va letto anche all'interno degli aspetti di quella crisi che riguardano in particolare proprio quella che si potrebbe dire, si dice ancora, scienza della natura ma andiamo in ordine nella ricostruzione di questo Nietzsche logico-filosofico scusandomi ovviamente vorrei darvi alcune provocazioni e chiavi di lettura perché appunto sono chiavi di lettura assolutamente non scontate quindi tutto è da discutere ovviamente io, ripeto, le ho proposte diciamo 40 anni fa ma senza alcun successo quindi non è che pensi che ora pur essendo forse un po' più motivate possano incontrare grandi plausi cominciamo dal Nietzsche che tutti conoscono il Nietzsche Freygeist il Nietzsche Libero Spirito il Nietzsche di umano troppo umano il Nietzsche della Gaia Scienza il Nietzsche cioè della decostruzione storico-psicologica del sapere, anzi diciamo della volontà di sapere potremmo chiamarlo il momento scettico del suo pensiero però dando al termine scetticismo tutto il suo valore quello che gli attribuiva Hegel la dimensione scettica è una dimensione essenziale e universale di ogni autentica filosofia ogni autentica filosofia inizia scetticamente se no non è la filosofia se no è la ripetizione dogmatica di qualche sapere acquisito se no è storia della filosofia non è filosofia se non ha al suo interno immanente in sé questa dimensione scettica questa dimensione scettica domina questo periodo di Nietzsche il cauma, la meraviglia da cui anche per Nietzsche deve nascere l'interrogazione e la ricerca filosofica è per lui ecco la chiave decostruttiva psicologico decostruttiva è per lui viene interpretato per lui questo cauma come il sintomo il sintomo di una paura che caratterizzerebbe il nostro esserci di fronte alle potenze strane alla potenza strana della natura ma soprattutto alla morte è questa paura che ci costringe a voler conoscere a voler comprendere potremmo parlare di presupposti non logici della logica per usare una terminologia che non è di Nietzsche ma di filosofie successive la ricerca sui presupposti non logici della stessa logica la logica non nasce logica come la filosofia non nasce filosofia questi meccanismi partenogenetici non appartengono ai veri pensatori mai ma questa ricerca appunto questa ricerca dei fondamenti non logici della logica che si presenti in una chiave molto psicologico-psicologistica in questa fase di Nietzsche ha un aspetto anche logico si potrebbe dire è la critica di ogni teoreticismo è la critica della possibilità di una progressiva eliminazione non era d'accordo assolutamente di una progressiva eliminazione era un nicciano che protestava di una progressiva eliminazione di ogni componente empirico-psicologica nella comprensione dell'ente è possibile quella che Husserl chiamerà la riduzione idetica è come se Nietzsche si interrogasse preventivamente su questa operazione tipica della critica allo psicologismo che poi dominerà fin dall'inizio la ricerca di questo colossale filosofo che è Husserl la leggerei così il pensiero puro dice Nietzsche ma è impossibile che borria filosofica questa che vi sia un pensiero puro il pensiero è sempre affetto il grande tema dell'affettività del pensare possiamo eliminarlo questo aspetto possiamo pensare di poterlo eliminare questo aspetto affettivo è una grande pretese una grande istanza della grande filosofia non c'è dubbio alcuno in tutti i filosofi noi de re agitur de nobis ipsis silemus l'elemento affettivo l'affettività del logos va eliminata può essere eliminata e questo è il significato anche della riduzione idetica husserliana Nietzsche dice il pensiero è affetto in tutti i possibili modi e quindi invita a ricercare in questa direzione potremmo dire nella direzione del nesso tra logos e patros in qualche modo tra logos e patros il grande gesto iniziale della filosofia la filosofia inizia con Platone il grande gesto iniziale della filosofia è la polemica contro l'espressione tipica della tragedia pat e matos attraverso la sofferenza e il patos impari no dice Platone no il patos non conduce ad alcuna conoscenza bisogna ridurlo fino a eliminarlo questa dimensione l'affettività del pensiero va superata in tutti i modi Nietzsche in nessun modo può essere superata il pensiero è affetto in tutti i possibili modi diremmo parafrasando Spinozano il pensiero piange e ride e non c'è modo di intelligere senza piangere senza ridere quindi leggiamo in questa chiave Nietzsche perché allora si capisce anche una cosa che si continua a non capire qual è il nesso vero originario di una certa fenomenologia antiusserliana che sarà tipica di Heidegger perché Heidegger su questo polemizza con Husserl e Husserl lo capisce benissimo se leggiamo le sue glosse a essere tempo lo capisce benissimo tutto essere tempo è la costruzione di una dell'affettività del pensare dell'affettività del pensare e Husserl è scandalizzato di questa di questa uscita del suo allievo che non era mai stato tra l'altro un suo vero allievo ma questo allievo aveva letto Nietzsche aveva letto Kierkegaard che Husserl ignorava semplicemente ignorava non aveva mai fatto i conti con questi autori drammatica del pensiero contemporaneo sfugge sempre quasi sempre agli storici della filosofia alla teoria dunque per Nietzsche si deve sostituire quella che poi alcuni hanno chiamato una perspectiva l'Eren una dottrina della prospettiva cioè ogni oggetto può essere colto soltanto da un punto di vista secondo una prospettiva qualsiasi visione panoptica è infondata non ha fondamento da qui allora si comprendono i famosi passi citati stracitati su verità come interpretazione anche anche Kant per Nietzsche va letto così è solo un grande critico e gli dice al di là del bene e del male Kant è solo un grande critico e in questo senso diventa fondamentale la considerazione storica in questa decostruzione psicologica affettiva psicologica che abbiamo detto fin qui si aggiunge appunto la prospettiva storica ogni oggetto va considerato in prospettiva psicologica in prospettiva storica va decostruito in prospettiva storica in prospettiva psicologica questo è il significato della genealogia della genealogia come diviene il conoscere psicologicamente e storicamente e in questo senso si decostruisce il sistema metafisico nella sua istanza fondamentale di ogni sistema metafisico quello della riduzione edetica perché questo è quello che tenta ogni sapere metafisico dice Nietzsche in umano troppo umano la filosofia storica ed ora in poi necessaria cioè non si può più dare alcuna filosofia che non assuma questa prospettiva storica genealogica nel duplice senso genealogia psicologica e genealogia storica è necessaria e qui potremmo già vedere perché queste prime opere di Nietzsche sono certamente non presentano alcuna vera sistematicità e qui potremmo già vedere una grande contraddizione in Nietzsche perché nelle inattuali alcuni di voi lo ricorderanno nelle inattuali il bersaglio polemico era proprio la saturazione storica come dice Nietzsche del sapere europeo tutto diventa storia tutto viene interpretato secondo una chiave storica la saturazione storica del sapere europeo Nietzsche se la prendeva contro questa saturazione storica ma invece la filosofia del Freygeist umano troppo umano Gaia scienze eccetera viene fuori con questa con questa con questa idea che la filosofia è storica o meglio la filosofia storica è poi necessaria che contraddice la prospettiva dell'inattuale sono due prospettive diverse ma Nietzsche è in questo periodo un insieme un complesso di prospettive quella storica era considerata nell'inattuale nient'altro che il segno di una inesorabile decadenza dello spirito europeo qui invece in al di là e anche prima viene considerata un elemento essenziale la considerazione storica della prospettiva genealogica decostruttiva qui è secondo me una evidente contraddizione ma una contraddizione produttiva in Nietzsche perché è da questa contraddizione che Nietzsche muove per le fasi successive e più sistematiche del suo pensiero cioè da questa fase si muove Nietzsche dal suo momento scettico per così dire influenzato largamente da un certo illuminismo a quello che è segnato da molteplici incontri si riapprofondisce la prospettiva chiamiamola così illuministica in un senso più vicino ai grandi impilisti del settecento e gli incontri sono molteplici molto interessanti ancora non molto indagati cominciano ad esserlo adesso per esempio in certa filosofia tra l'altro anche di impostazione vagamente analitica negli Stati Uniti si comprende come questo Nietzsche di cui adesso parleremo sia stato largamente influenzato da autori americani come Emerson legge moltissimo Emerson sono letture molteplici ascolta qua e là si va da Emerson a Dostoievski ed è interessante questa attenzione di Nietzsche verso il pensiero che emerge da questi due grandi continenti è un elemento che mostra bene credo l'intelligenza di questo autore andare a vedere con attenzione ascoltare con attenzione cosa dicono questi trascendentalisti americani Emerson e con altrettanta attenzione cosa emerge dal continente russo non era mica un'intelligenza da poco e poi l'approfondimento di certi momenti della metafisica europea Spinoza che a un certo momento diventa il suo autore quasi di riferimento come vedremo dalla debolezza e contraddizione della fase illuministica e attraverso anche queste guide questi segnali questi passaggi mica tutti indagati anzi a mio avviso pochissimo ancora indagati da alcuni americani Davidson e altri cominciano ad essere indagati e c'è un'attenzione nuova proprio in quell'ambiente anche analitico negli Stati Uniti nei confronti di Nietzsche da qualche decennio questa parte e qui vediamo appunto alla collocazione ai primi segni della collocazione di come potremmo cercare di collocare Nietzsche all'interno di quella crisi dei fondamenti che investe il paradigma della scienza moderna tra 800 e 900 e in questo appunto non più Voltaire quel tipo di illuminismo diventa fondamentale per Nietzsche ma appunto il grande empirismo anglosassano del 700 IUM cioè quelli diventano gli autori di riferimento non più Voltaire gran parte dei frammenti successivi allo Zarathustra sono dedicati alla critica del concetto di causa e qui è evidente l'influsso degli autori che vi dicevo ed è evidente come Nietzsche si collochi nell'antideterminismo che mina i fondamenti appunto della meccanica classica dice Nietzsche la fisica classica assume pregiudizialmente cioè un pregiudizio che dal fatto che un evento accada esso debba necessariamente accadere così come accade cioè che esso abbia una causa determinante sia che noi sia in grado di afferrarla sia che no in altri termini noi vogliamo che vi sia sempre una critica a una sorta di antropomorfismo del determinismo noi vogliamo è come volessimo sempre che vi fosse un soggetto dell'accadere un io che fa accadere la cosa e che a questo io e alla sua intenzione si potesse sempre risalire cioè così come noi vogliamo essere pretendiamo di essere i soggetti del nostro agire questa è la nostra pretesa sono io è il mio io che agisce che decide di agire nello stesso modo questa stessa nostra idea questa stessa nostra presunzione noi l'attribuiamo alla natura ecco accade questo e un autore l'ha fatto noi cerchiamo sempre l'autore noi cerchiamo sempre il colpevole in Italia poi in particolare noi cerchiamo sempre il colpevole ma il soggetto dell'accadere dice Nietzsche è una finzione finzione nel senso latino del termine non una menzogna fingiamo ci costruiamo un autore fingere così come ci fingiamo l'esistenza di un io che pensa e che decide è una finzione dove sta sto io è una finzione ma il soggetto dell'accadere è una finzione appunto come lo è dice Nietzsche un io che pensa e decide in realtà possiamo dire che questo evento cosa possiamo dire che questo evento è accaduto che questo evento è accaduto e non possiamo fare che non sia accaduto è accaduto ma nulla costringeva a che accadesse così e così la costrizione assoluta non esiste così come non esiste anche un'assoluta casualità potremmo dire in termini classici né Dio né Tiche o Dio o Tiche diceva il mio maestro Carlo Diano o c'è uno Zeus o c'è la Tiche no per Nietzsche non c'è né Dio né Tiche ma gli eventi sono formulabili certo che sono formulabili ma la formulabilità degli eventi cioè il fatto che siamo in grado di misurarli di pensarli di pensarli di misurarli sempre quella è la parola mente non significa alcuna necessità ad essi immanente l'unica cosa che certamente possiamo affermare in perfetto accordo con i principi e le categorie aristoteliche è che questo evento non può essere nello stesso tempo e sotto le stesse condizioni anche un altro questo evento per parafrasare la famosa il famoso esperimento mentale di Schrodinger quando apro la famosa scatoletta il gatto è vivo o è morto ma fino a quel momento è vivo o è morto ovvero sta sospeso nella indeterminazione del possibile non veco azione nel processo degli eventi naturali questo è il refrain continuo di Nietzsche in tutti i frammenti dall'epoca dell'Ordalatustra non veco azione nei processi naturali così come non vi è indeterminazione o casualità e così vale altrettanto nei processi psichici cioè io non posso né dimostrare dimostrare l'inesorabile necessità dei miei atti né al contrario che si esprimano un mio libero arbitrio accadono occorrono secondo me qui ritorna in questi discorsi di Nietzsche che ripeto per essere collocati alla loro altezza storico-filosofica vanno collocati all'interno della grande crisi dei modelli fisici classici vi è una ripresa delle antinomie kantiane bisognerebbe lavorare in quella direzione perché ripeto non vi è che alla necessità alla prospettiva deterministico-meccanicistica si sostituisce un'attiche no siamo presenza di un'antinomia potrebbe valere l'una come potrebbe valere l'altra delle alternative o meglio né l'una né l'altra possono essere dimostrate proseguiamo in questa in questa chiave di lettura se cade quell'idea del soggetto come causa come autore degli eventi sia psichici che fisici e cioè viene meno un'interpretazione di tipo appunto meccanicistico causalistico del reale attenzione che cade anche quella dell'oggetto soggetto e oggetto simul stant simul cadunt anche qui bisogna leggere questa posizione di Nietzsche non come un'espressione di vago irrazionalismo atteggiamento antiscientifico è totalmente strano Nietzsche è un appassionato lettore di Lang dei vecchi materialisti vecchia storia questa no democrito tutti amavano democrito Marx come Nietzsche non c'è niente di vagamenti irrazionalistico come certe letture assolutamente forvianti prive di ogni significato che hanno circolato per tanto tempo il venir meno del soggetto nei termini che abbiamo detto che comporta il venir meno dell'oggetto significa che cosa che viene meno la cosa che viene irrealizzato tutto no ma che il reale è la relazione non viene soggetto né oggetto è solo la loro relazione il reale non è se non il rapporto l'immanenza reciproca il non poter apparire dell'uno senza l'altro le cose non posseguono alcuna costituzione in sé a prescindere a prescindere dall'interpretazione osservazione ma questo non significa che le cose diventino l'interpretazione o che sia la nostra interpretazione a produrre la cosa no significa che la realtà è la relazione e a questa relazione va corrisposta una logica della relazione una logica come relazione come relazione l'idea chiave è la desostanzializzazione del mondo su questa Nietzsche lo dice esplicitamente noi siamo apriamo un'epoca il nostro pensiero apre un'epoca in cui il mondo viene desostanzializzato guardate che è un pensiero molto forte perché quest'idea della desostanzializzazione del reale veramente domina tutta la nostra cultura fateci caso è il paradigma interpretativo del contemporaneo la desostanzializzazione del mondo vuol dire grande astrazione in campo artistico vuol dire l'impossibilità di rinserrare la rappresentazione in 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 alcuna cornice e e vuol dire la perfetta coscienza che la la mia rappresentazione non ha alcun rapporto ontologico con la cosa rappresentata ma la stessa cosa si potrebbe dire in filosofia politica la desostanzializzazione di quegli enti di ragione o reali non importa che hanno dominato la filosofia politica e l'agire politico la nazione il popolo lo stato è un paradigma fortissimo da discutere quanto volete ma è un'idea fondamentale che anche quella ha una base logico-filosofica ed ha una base precisa all'interno delle esperienze proprie della della grande fisica contemporanea e qui dice l'idea della cosa crolla dice esplicitamente non c'è cosa non c'è cosa se la prende con Kant ma non lo capisce qui Kant la cosa in sé ma non c'è la cosa in sé però qui non aveva capito nulla di Kant Nietzsche perché in Nietzsche in Kant il numero è esattamente quello che dice lui il numero è la cosa in quanto pensata non una cosa in sé un'essenza ultima una realtà ultima della cosa no è la cosa anche la cosa più semplice in quanto viene pensata e non esperita misurata eccetera dall'intelletto in quanto venga pensata numero ma è interessante questo perché appunto Nietzsche nella prospettiva in quella che lui è in quella che per lui è una prospettiva attenzione perché rimane una prospettiva non viene mai assolutizzata la prospettiva di Nietzsche Nietzsche insiste costantemente la mia è una filosofia sperimentale quindi sperimentiamo sta in piedi non sta in piedi è una filosofia sperimentale non si afferma mai dogmaticamente anche se ritiene che in ciò che dice dice qualcosa che è vero è evidente chiunque di noi quando dice qualcosa convintamente dice qualcosa che ritiene che sia vero cosa vuol dire che lì si chiude del discorso allora questa non c'è cosa non c'è cosa in sé né nel senso di una né nel senso di una realtà materiale né nel senso del numero non comporta da questo punto di vista il rapporto con Kant è sempre in Nietzsche mediato da Schopenhauer che è il grande lettore di Kant non comporta il il venir meno dell'istanza propria della cosa della realtà anzi cioè il fatto che l'idea di un atomo dice Nietzsche è semplicemente un bisogno psichico dice esattamente così che l'istanza che ci porta a cercare un qualche indivisibile è semplicemente un soldo e un dover essere qualcosa di irraggiungibile il fatto che la cosa chiamiamola in sé sia un immateriale dice Nietzsche un immateriale sia diremmo noi energia tu l'atomo non puoi continuare a dividere all'infinito quello poi trovi energia e non significa che questo sia un errore che questa ricerca dell'indivisibile che questa ricerca dell'atomo che questa ricerca se volete della cosa in sé sia un erro se ci siamo sbarazzati finalmente della materialità se non vediamo più la materia come materia ma come immateriale questo non significa che il nostro che il nostro bisogno di giungere a un fondamento sia vano perché è esattamente questo il bisogno che ci spinge a ricercare sempre c'è un frammento parallelo a questo che ho appena citato ci siamo sbarazzati finalmente della materialità bisogna negare l'essere nichilismo insorgono tutti coloro che leggono unice semplicemente in una chiave metafisico filosofica bisogna negare l'essere ma invece qui non c'è nessun nichilismo a buon mercato qui ci si dice o no ci si dice Nietzsche ci dice due cose la prima sbarazziamoci finalmente della fatale paroletta dice cose tanto diverse da tanta logica contemporanea sbarazziamoci finalmente della fatale paroletta che continuamente illude e ci illude che il nostro linguaggio possegue una relazione ontologica con la cosa con ciò di cui parla che vi sia una correlazione necessaria tra le due dimensioni in crisis ponevo queste pagine di Nietzsche in rapporto a tanta letteratura sperimentale del novecento il Chandler's Brief di Hofmann praticamente tutta la letteratura viennese contemporanea di Wittgenstein primo aspetto sbarazziamoci di questa parola che è fonte semplicemente di equivoco sbarazziamoci di questo equivoco che deriva dal nostro linguaggio dalla nostra grammatica e poi soltanto il divenire è non l'essere il divenire qui di nuovo un certo eraclitismo niciano abbastanza volgare e che andrebbe tutto discusso e qui non abbiamo il tempo perché il giochetto dell'opposizione tra essere e divenire ovviamente non può soddisfare ma è la direzione la prospettiva in cui Nietzsche assume questa 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 critica dell'idea di cosa che è una critica radicale perché al suo fondo è la critica ad ogni idea di una fondamentale materialità dell'essente è una grande idea sbarazziamoci del materiale il materiale quello che vediamo il materiale è immateriale l'essenza di questo materiale è energia è luce non è un atomo materiale indivisibile ma dicevo è necessaria la fede fede termine che usa lui ma vuol dire fiducia voglio credere è necessaria la fede nella verità è necessaria la fede di poter pervenire a quell'atomo a dire che cos'è l'essente è necessaria è necessaria la fede di poter giungere ad una teoria universale ad una unificazione universale di tutte le leggi della natura è necessaria quella fede non ci sarebbe scienza senza quella fede qui rovescia a Nietzsche la posizione scettica originaria e comprende diciamo la psicologia del sapere non più non più genealogicamente storicamente psicologicamente ma come come quel dover essere della ricerca scientifica filosofico scientifica la nostra prospettiva deve quella prospettiva sì la mia è una prospettiva ci sono prospettive solo prospettive nessuno di noi vede l'oggetto nella sua interezza l'oggetto si vede secondo diverse prospettive e che sono combinabili soltanto attraverso una logica delle relazioni con tutta l'indeterminazione che questo comporta ma ogni nostra prospettiva deve voler valere valere questa è l'istanza di verità ciò che affermo nella mia proposizione deve voler valere le mie rappresentazioni sono rappresentazioni del mondo e tanto più potenti quanto più sembreranno spiegarlo dice l'aspirazione alla certezza è un impetuoso irrinunciabile bisogno che caratterizza tutto il nostro esserci e ignorarlo pretendere che la sua critica equivalga al suo superamento equivalga a sbarazzarsene sarebbe ridicolo devo criticarlo criticarlo nel senso cantiano ma non me ne sbarazzo manco per niente non come la realtà è ma come deve essere per noi affinché noi possiamo conoscerla lo stesso principio di non contraddizione Nietzsche lo spiega come un imperativo logico logico un imperativo logico dice in cui creiamo tra virgolette irreale in quanto conoscibile perciò tutti i principi logici finiscono per lui per assumere questo aspetto in qualche modo finalistico ma non c'è un finalismo potente nell'impresa scientifica è certo che c'è un finalismo potente o meglio i principi logici rivelano questa loro necessaria dimensione pragmatica qui certa filosofia americana che contemporanea ha incontrato Nietzsche c'era questo elemento pragmatistico in Nietzsche non c'è dubbio alcuno che gli derivava da quelle letture proprio del pensiero americano che vi citavo una dimensione pragmatica in senso elettorale cioè principi senza i quali si sarebbe impossibile l'agire e allora se la filosofia ha a che fare con tali principi ecco che essa può rappresentare anche per Nietzsche come per i classici l'ergon per eccellenza del nostro esserci il fare per eccellenza il filosofein perché ha a che fare con i principi appunto con i principi in base ai quali noi dobbiamo non possiamo non pensare il nostro agire trattino pensare quindi la fede in questa nella verità è incredibile come non sia mai stata come si come si si fatichi ancora a vederli in Nietzsche la fede nella verità è espressione massima della volontà di potenza è misura della forza di un carattere di un pensiero l'uomo non può vivere senza una costante fiducia in qualcosa di indistruttibile dentro di lui e questo non è Nietzsche questo è Kafka allora ammettiamo che secondo queste prospettive si possa essere d'accordo che Nietzsche ha a che fare e ha a che fare profondamente con la crisi dei fondamenti epistemologici e non con varie letterature e varie filosofie della crisi e tantomeno varie irrazionalismi ammettiamo che forse studiare Nietzsche in questa prospettiva non sia del tutto inutile e lo stanno comprendendo pensatori filosofi che provengono da scuole e tradizioni completamente lontane rispetto a quelle di molti se non tutti coloro che durante l'ultimo secolo hanno studiato Nietzsche ma molti di voi si chiederanno queste queste riflessioni intorno a un Nietzsche logico filosofico cos'hanno a che fare con il superuomo cos'hanno a che fare con l'eterno ritorno cioè con quelle parole chiave che corrono in tutte le bocche quando si parla di Nietzsche no? Quando parliamo di Ibermensch quando parliamo di eterno ritorno non siamo costretti a riprecipitare nel Nietzsche della della maledetta sorella che tanto maledetta poverina non era perché tutto sommato come vedremo insomma poi questo famoso libro la volontà di potenza è un libro che Nietzsche intorno a cui Nietzsche pensava che stava elaborando ci sono pagine e pagine di sommari possibili di questo libro certo mai stato scritto da lui ma poi beh questa è un'altra questione che riguarda i filologi ma ritengo che tutto sommato anche leggendo i frammenti così malamente raccolti dalla sorella le idee fondamentali che prima vi raccontavo potevano benissimo emergere ed essere lette commentate adeguatamente vediamo invece il problema anche qui propriamente filosofico come interpretare la luce di quanto si è detto l'oltreuomo e l'eterno ritorno e qui bisogna di nuovo avanzare un'interpretazione del libermensch che contrasta abbastanza radicalmente con tutte quelle correnti se no appunto questo rapporto con l'inizio logico filosofico non emergerà mai l'oltreuomo come giustamente d'altra parte vattimo tanti tanti anni fa ha tradotto libermensch e non superuomo un uomo all'ennesima potenza eccetera una figura che supera quella dell'uomo così come finora quella natura umana così come finora potrebbe essere in qualche modo inteso definita questo oltreuomo incarna in sé proprio l'incarnazione di tutto il percorso che qui si è fatto finora da quello propriamente scettico fino a quella volontà o fede di certezza che muove l'impresa filosofico scientifica che deve essere esserci perché questa impresa ci sia ma che cosa dismette radicalmente libermensch dismette radicalmente ecco il nesso ogni pretesa di valere come soggetto questo è questo è libermensch cioè quella istanza logico filosofica che metteva in crisi il soggetto sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista la causa il soggetto sia l'autore sia dal punto di vista fisico che psichico lo ritroviamo in pieno nella figura dell'Ibermensch l'Ibermensch è la dismissione di ogni pretesa di valere come soggetto l'Ibermensch proviene è il risultato il compimento di una di una dinamica che inizia con coloro che sanno tramontare questo è il punto che cioè l'Ibermensch è la figura che trasforma la volontà di potenza in volontà di tutto donare di nulla tenere per sé queste sono le pagine centrali dello Zaratustra cioè la figura che supera a differenza della natura umana che abbiamo conosciuto finora e che ancora è sfortunatamente largamente dominante che supera ogni filopsichia cioè è esattamente l'incarnazione non soltanto del tramonto della soggettività ma della figura che succede al tramonto del nuovo giorno dopo il tramonto della soggettività è chiaro che se leggi l'Ibermensch nel senso del super uomo il nesso con quanto abbiamo detto finora precipita non si può in alcun modo trovare anzi diciamo meglio sparisce totalmente dalla nostra visuale il Nietzsche logico filosofico viene cancellato e soprattutto viene cancellato agli occhi di chi non appartenendo a una certa tradizione di pensiero appunto è portato quasi naturalmente a leggere il Nietzsche come un letterato ripeto c'è una reazione forte anche nell'ambiente agglossassero ormai a questa lettura di Nietzsche è Libermensch è la figura di colui che si libera dalla caverna egoica dalla caverna egoica per dirla con Hillman dalla caverna si parla tanto di antiplatonismo di Nietzsche Nietzsche gronda di platonismo gronda di platonismo di un vero platone non del platone dei sussidiari purtroppo in Italia non sono ancora stati pubblicati nell'opera iniziata da Colli le lezioni di Nietzsche ma già dopo la nascita della tragedia uno degli ultimi corsi importanti di Nietzsche a Basilea fu dedicato ai dialoghi di Platone in cui Nietzsche dice grosso modo se non mi ricordo Platone è la figura che fa epoca cioè che determina l'epoca della civiltà europeo-occidentale è la liberazione dalla caverna questo è è quella figura ricordate il mito di Platone che riesce appunto a giungere alla visione della energia del sole anche oltre il sole e oltre ogni ibris e oltre ogni superbia oltre ogni invidia oltre ogni gelosia oltre ogni risentimento tutte le caratteristiche dell'uomo del sottosuolo e non solo è figura della depance non del dominio non del dominio com'è banale la volontà di potenza come dominio non è banale com'è da ultimi uomini pensare che il potere sia dominare il potere è donare il potere è donarsi il potere è svuotarsi forse un autore ha capito bene questo Nietzsche de Bataille domina Liebermes ma domina proprio perché in sé sa comprendere superare tutte le precedenti espressioni della volontà di potenza cioè l'immagine che corrisponde all'oltre uomo è quella dell'oceano immagine nicciana che cito spesso mi piace molto è quella dell'oceano dove i fiumi che Nietzsche dice i fiumi immondi della storia finiscono la loro corrente e vengono metabolizzati da tutte le loro scorie da tutti i loro relitti l'oltreuomo è la figura che scioglie scioglie discioglie come l'oceano discioglie tutte le opposizioni tutte le contraddizioni soggetto oggetto tra soggettività dominanti tra soggettività distinte è figura della terra certo niente di super è figura della terra ama la terra ma ama questa terra ama questa terra ama la terra non il sottosuolo dove Platone collocava a noi sottosuolo o sotto il mare o dentro la caverna quei prigioni eh ricordate la so dice Socrate quei prigioni li vedi li vedi li immagini quei prigioni li incatenati sono come noi dice sono come noi e nel fedone sotto il mare liberman c'è quello che esce da quel sottomare che esce da quel sottosuolo per abitare finalmente la terra la terra la terra dove dove non c'è risentimento dove non c'è invidia dove non c'è ibris dove non c'è superbia dove si ama chi dona e non chi dice tutto per me pleonectia ma questo è del tutto collegato appunto a quanto abbiamo detto prima è chiaro che si interpreta il superuomo nel senso opposto a come lo interpreto io è chiaro che nesso con l'eventuale inizio logico filosofico scompare e con l'eterno ritorno come la mettiamo fantasia dicono gli scienziati fantasia poesia fantasia con l'esto eterno ritorno anche qui bisogna eliminare subito un equivoco grande come una casa che è continua imperterrito perché nulla è più persistente dell'errore come si sa quello cioè che l'eterno ritorno sia un eterno ritorno ma Nietzsche nello Zaratustra lo dice chiaramente l'eterno ritorno nel senso banale tutto si ripete è il discorso della scimmia e dà nausea a Zaratustra ci manca altro che tutto ritorno per carità di Dio tutto ritorna immaginatevi che prospettiva felice la situazione attuale tutto ritorna tutto ritornerà infinite volte per infinite volte donne e bambini creperanno negati nel mare di Sicilia che bello c'è una insurrezione etica l'idea che tutto ritorna e d'altra parte questa idea dell'eterno ritorno in questo senso contraddirebbe totalmente quello che abbiamo detto dell'oltreuomo l'oltreuomo giungiamo finalmente all'oltreuomo e poi riprecipiteremo di nuovo nell'uomo del sottosuolo nell'ultimo uomo ma che bellezza Zaratustra ha nausea di questa idea di eterno ritorno non c'entra nulla si dice lo dice anche Levit ma sono errori colossali che io francamente ogni volta che leggo Nietzsche non capisco come si sono potuti commettere perché è di una chiarezza lampante il discorso nello Zaratustra un eterno ritorno di questo genere si dice l'eterno ritorno contraddice il tempo lineare questa leggenda un tempo lineare che sarebbe il tempo proprio dell'Europa o cristianità è un tempo ciclico dove tutto ritorno che sarebbe proprio del classico sono semplificazioni da sussidiario per l'appunto non è vero niente e qui non ho il tempo per dirlo ma insomma immaginatevi cioè quale 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 tempo lineare può essere all'interno di una dimensione propriamente teologica cos'è annulliamo la festa cos'è la festa cos'è la festa se non la contraddizione continua al tempo lineare cos'è la festa cos'è la festa se non festag un giorno che sta e che torna non è una contraddizione evidente rispetto all'idea di tempo lineare la festa e il tempo ciclico dei classici è un tempo ciclico semplicemente ma niente affatto è un tempo semmai a spirale come anche Hegel capì perfettamente e da quel classico che era e che conosceva il greco aveva ben inteso non è una ripetizione non è una ripetizione è semmai una mimesi una partecipazione mimesi tra epoche diverse ma nel caso di Nietzsche Nietzsche l'idea di eterno ritorno va intesa come il tentativo la prospettiva prospettiva sempre prospettiva sempre Nietzsche lo dice lo ripete badate la mia filosofia sperimentale discutetela discutiamone voglio aprire una prospettiva al vostro pensiero anche nel caso dell'oltreuomo mica lo definisce come fai a definire l'oltreuomo è un non d'oltreuomo come fai a definirlo poi si definisce un fenomeno qualcuno che mi appare non posso definire un non d'oltreuomo non ancora apro una prospettiva quella di cui abbiamo appena parlato avete fede in questa prospettiva ci potete credere questa prospettiva ha per voi una qualche fondamento questa prospettiva questo discorso che vi faccio intorno a questa prospettiva assumono sue coerenze interne oppure no ecco queste sono le domande ecco il superuomo ve l'ho dipinto e nel caso dell'eterno ritorno la prospettiva qual è? il superamento del tempo come durata non del tempo ciclico o del tempo lineare che sono la stessa cosa da un punto di vista logico perché sono il tempo come durata non cambia niente se il tempo come durata gira così o va così è tempo durata l'eterno ritorno pone questa questione pone la questione se il tempo debba necessariamente essere inteso come durata questa è la questione che pone Nietzsche la prospettiva che vorrebbe porre Nietzsche prospettiva ma è una prospettiva che si intrinseca poco che si intriga poco con questioni epistemologiche fondamentali a me pare di sì è al centro delle discussioni attuali questa questione del tempo le due concezioni canoniche cicliche e lineari dal punto di vista logico non hanno alcuna differenza alcuna questo dice e credo che dica con ragione e allora l'eterno ritorno deve essere fatto valere all'interno della visione del libermensch come l'uomo libermensch questa figura oltre uomo supera quella umanità eccetera eccetera caratterizzata così e così che abbiamo visto così il tempo del libermensch è il tempo che si oppone alla durata qual è il tempo che si oppone alla durata il presente il presente questo vuol dire questo vuol dire che ama la terra il presente libermensch dice è il passato libermensch dice è il futuro libermensch dice è il presente il passato non è passato è morto è io voglio che sia dice il libermensch voglio che sia il futuro non è una dimensione in cui mi in futuro dimenticando il presente voglio che sia è è l'attimo è l'istante il tempo del libermensch libermensch vive il suo presente e nel suo presente vi è quello che noi diciamo passato e quello che diciamo futuro e questo vuol dire per lui amare la terra non si in futura il mio presente vale soltanto nella misura in cui diviene futuro oppure vale soltanto nella misura in cui è in memoria di un passato è l'elegia la nostalgia di un passato o la nostalgia di un futuro no? perché vi è la nostalgia del ritorno e vi è la nostalgia dell'andare no è vive vive finalmente l'oltreuomo vive il suo presente ma non in quanto è il presente e è nulla nichilismo di nuovo interpretazione nichilistica di nuovo il passato ed è nulla il futuro no? li ha in sé li vuole così voglio che fosse così voglio che fosse così voglio che sia e questo è questo è il suo incontro con Spinoza e qui si aprirebbe una discussione che non possiamo fare la prossima anno parleremo di Spinoza ma qui si apre per chi ha un po' di orecchio su queste questioni qui davvero si apre il suo rapporto con Spinoza ho trovato la mia anima gemella su questo l'amore della necessità non in senso deterministico che contraddirebbe tutto quello che ho detto ma nel senso che appena ho detto è la dimensione dell'è vedete quanto era debole quella prima espressione l'essere non è l'è il presente questo questo qui non è un semplice un semplice divenire che si oppone all'essere di questa di questo di questo di questa visione dell'oltreuomo che vive diciamo così la terra del suo presente e lì immanente nel suo presente vuole ora il suo passato e vuole ora il suo futuro sono presagi sono presentimenti sono ponti soltanto ponti tutti coloro che lo che ne fanno cenno tutte quelle sfilze di personaggi dello Zaratustra fanno cenno al superuomo anche la filosofia di Nietzsche sperimentale fa cenno a queste questioni e nelle sue immagini e nelle sue parti anche logico filosofiche certo nessuno di queste idee è propriamente sviluppata ma Nietzsche facendo queste idee apre queste prospettive apre queste prospettive eterno ritorno significa allora che il tempo durata è apparente è la nostra rappresentazione del tempo per un per un aspetto la dottrina dell'eterno ritorno insiste certo sul motivo antideterministico che abbiamo già visto proprio proprio di tutta la filosofia nicciana si potrebbe anche dire così è stato detto in passato l'ho detto pure io ma c'è tutta quest'altra c'è in più tutto quello che ho cercato di indicarvi si potrebbe dire in un tempo per collegare l'idea di eterno ritorno a quella prospettiva antideterministica che prima dicevamo si potrebbe dire no nulla ce lo vieta in un tempo indefinitamente lungo datemi un tempo indefinitamente lungo è assolutamente logicamente possibile che tornino le stesse identiche combinazioni tra gli essenti e i medesimi essenti di questo istante esattamente come è certamente possibile che continuando a mescolare le carte di un mazzo torni la stessa giocata di ora datemi un tempo indefinitamente lungo e come fai a contraddirmi questa possibilità non c'è nessuna contraddizione in questo ma non è questa la prospettiva che interessa Nietzsche non è questa la prospettiva che interessa Nietzsche cioè non interessa Nietzsche la semplice non impossibilità o non contraddittorietà dell'idea di eterno ritorno dello stesso dell'uguale ciò che conta ripeto è la negazione la negazione ciò che conta è l'idea che il tempo durata è apparente non che non che non è è apparente è il modo in cui noi ce lo rappresentiamo in altri termini ciò che torna eternamente che cosa è che torna eternamente questo presente torna eternamente il presente torna eternamente è sempre presente è questo è che torna eternamente e cioè l'eterno è l'è l'istante del presente e l'oltreuomo ama l'eternità di questo presente non vuole nostalgie del passato e non vuole nostalgie del futuro ovvero non è incatenato né al passato né si in futuro né è prigioniero del così fu né del sarà ama e cioè vuoli così fu e vuole il sarà così voglio che sia così voglio che avvenga come avvenga è la necessità dell'istante presente la sua dimora qui egli vive qui egli vive non nella durata la freccia del tempo ecco è il suo primo supremo nemico la freccia del tempo e non è in qualche modo collegabile questa idea di un'interpretazione radicale del carattere soltanto probabilistico antideterministico del fondamentale principio dello stesso fondamentale principio della termodinamica non è da questo punto di vista Nietzsche un vero contemporaneo del grandissimo suicida di Duino Ludwig Boltzmann non è disperato Ludwig Boltzmann perché non gli non gli riconoscono appunto l'interpretazione antideterministica del principio del secondo principio della termodinamica è talmente cervellotica questa questa relazione a me non pare ecco dove allora le idee di Nietzsche possono configurarsi all'interno di grandi visioni appunto e del nostro esserci nel mondo e del mondo fisico della physis dello studio della physis prospettiva che ha la sua attenzione materialisti la sua attenzione appunto ai grandi imperisti del settecento la sua collocazione che io ritengo reale filologicamente dimostrabile all'interno della crisi dei fondamenti della fine del diciannovesimo secolo a volte quando rifletto su queste cose ho la sensazione che come la la sofia della filosofia la filosofia è nata dalla navigazione nella physis perché questa è la nascita della filosofia oggi la grande fisica contemporanea stia navigando verso la filosofia o meglio la grande fisica contemporanea fisica fisica non l'epistemologia che discetta da fuori sui procedimenti risultati della fisica della scienza ma la grande fisica contemporanea sia la vera filosofia contemporanea o che sia proprio da essa che debba di nuovo alimentarsi come è stata una volta una filosofia avvenire qualcosa di simile a guardar bene era già venuto alle origini della scienza moderna se pensiamo come si deve al rapporto tra Copernico e Bruno e cessiamo di leggere Bruno appunto come l'utopista fantastico che non ha nulla a che vedere con la scienza Nietzsche di questi problematici nessi tra filosofia e scienza tra filosofia e scienza della natura di questi possibili intrighi e forse anche contraddizioni a mio avviso rimane un esempio imprescindibile ma per giungere ad apprezzarlo e e a valorizzarlo in questa direzione come faticosamente ripeto da parte di qualcuno anche che appartiene ad altre scuole e ad altre tradizioni comincia ad avvenire è necessario prima di tutto un'operazione sì decostruttiva e cioè superare radicalmente quell'interpretazione del Libra quella interpretazione dell'eterno ritorno che negherebbero a priori ogni possibile collocazione di Nietzsche nel vivo di questo discorso di questo dibattito che interessa tutta la nostra tradizione filosofica e scientifica cioè il messo al di là delle due culture oltre questa epoca abbastanza sciagurata in cui filosofia e scienza non si sono incontrate manco per niente o quasi per niente ecco oltre superare questa epoca in questo paradossalmente in questa ricerca in questo interrogativo Nietzsche che sembrava il più remoto possibile dall'intervenire all'interno di questo dibattito e dal favorire una simile prospettiva Nietzsche invece potrebbe potentemente rientrare come uno dei protagonisti grazie 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 al professor Massimo Cacciari per chi volesse rivolgere delle domande ci dovrebbe essere un microfono in giro dove è il microfono là c'è una domanda non la vedo laggiù c'è una domanda non la vedo c'è anche c'è anche una qua allora so che è abbastanza ingenuo e forse anche stupido prendere una frase di Nietzsche e volerla e volerla entrare qualsiasi cosa perché lo hanno fatto da sempre con risultati catastrofici tuttavia a proposito del determinismo o dell'antideterminismo di Nietzsche mi viene in mente una frase che ho letto mi sembra sulla Gaia Scienza ma potrei sbagliare in quell'aforisma in cui ripete guardiamoci da guardiamoci da e dice guardiamoci da parecchie persone a un certo punto dice guardiamoci dalle leggi perché in natura non esistono leggi esistono solo necessità ecco volevo un commento su questa frase e poi riguardo al platonismo a Platone più che al platonismo mi sembra che Heidegger nel primo libro del suo Nietzsche quello che parla di arte e volontà di potenza mi sembra negli ultimi cinque o sei paragrafi parli della filosofia di Nietzsche come rovesciamento del platonismo ecco volevo un suo commento su queste due cose grazie c'è un'altra perché rispondiamo c'è un po' di casino c'è una domanda qua poi ce n'era una laggiù ok buonasera buonasera io ho seguito con molta attenzione e non ho fatto non ho potuto non vedere che Nietzsche si rifà molto ai classici cioè a partire da Parmenide soprattutto con quest'ultima visione dell'essere in quanto essere in quanto presente in quanto negazione del tempo ma in quanto ma appunto è il tempo dell'incontro della relazione e del tutto qui e ora di dire sì a questo momento e questo momento è l'eterno e il punto è questo che anche Parmenide si pone cioè è il primo che mette sul piano della conoscenza l'essere e quindi l'oggetto pensato assume una validità e quindi c'è una validità e quindi c'è la verità per l'uomo non nelle cose non anche se presso le cose la verità è l'essere presso l'uomo è una validità della conoscenza di questo essere e la mia domanda era più che altro in tutto questo discorso nella relazione nel relazionarsi a questo eterno momento la causalità nel momento del conoscere il soggetto non può non pensare in questa relazione all'effetto che alla causa che sta dentro l'effetto e volevo appunto che chiarisse quel punto perché mi è sfuggito quando l'ha spiegato chi è che aveva alzato la mano laggiù? ah lei grazie buonasera sì volevo dirle soltanto in merito alla sua interpretazione io personalmente la vedo più vicina a quella di Heidegger c'è un testo che lei conosce benissimo che si chiama la fine della filosofia e il compito del pensiero dove Heidegger fa un po' il punto sul suo pensiero e dice che la metafisica ha queste fasi che sono il platonismo e l'isotelismo come causazione ontica del reale poi abbiamo appunto le condizioni di possibilità dell'oggetto Kant la mediazione dialettica dello spirito assoluto Hegel il suo rovesciamento Marx e il suo compimento attraverso la volontà di potenza di Nietzsche io penso che lui veda Nietzsche in stretta connessione con la scienza e anche con la crisi della scienza che nomina a partire dalle prime pagine di essere tempo ma anche nel concetto di tempo del 24 io vedo la sua interpretazione di Nietzsche molto vicina a quella di Heidegger da questo punto di vista grazie grazie altre domande ok guardi a me ha fatto venire in mente che nel superamento nell'oltre uomo Nietzsche tiene insieme la critica di Hume al principio di causa in quanto l'effetto è causa della causa nell'abitudine insieme ad Agostino dove il tempo è sostanzialmente sempre un presente sia che sia diciamo un futuro che sia un passato ma è sempre un presente che pensa un futuro è un passato c'è ancora una basta e l'ultima a me pare comunque nella sostanza del discorso che il discorso che lei ha fatto mi sembra molto improntato sul discorso che tutto è antropomorfico è visto dall'uomo come è nel suo limite diciamo alla fine dei conti e quindi non si può mai alla fine chiudere il discorso ma bisogna allargare la domanda all'infinito e in sostanza è questo nel senso il nostro limite è anche la nostra grandezza perché noi vediamo il mistero del limite ed è del nostro antropomorfizzare il tutto nella nostra visione umana e quella è la nostra apertura e la nostra chiusura nel nice che lei dice per quanto riguarda l'oltreuomo mi ha fatto pensare un po' al discorso cristiano ci sarà l'oltreuomo un mondo dove ci sarà il solo il bene dove tutto sarà a posto ci sarà un eterno presente che comunque è l'eternità perché se c'è un'eternità non c'è un inizio non c'è una fine quindi l'eterno presente è un'eternità e mi fa un po' ricordare diciamo il paradiso cristiano ecco per assurdo e con questo concludo e la ringrazio grazie a lei c'è una signora che alzava la mano una ragazza grazie questa è l'ultima va bene sarò veloce il più possibile a proposito di quello che diceva ragazzo signore davanti della reinterpretazione che ha dato diciamo di questo eterno ritorno che molto spesso mi sono domandato ho cercato comunque di dare anche una interpretazione personale o cercare di capire secondo tutta la sua filosofia ebbene penso che il messaggio che Nietzsche più fortemente abbia cercato di mandare è quello di dubitare penso di qualsiasi verità assoluta e di non confidare in cose diciamo così senza domandarsi sulla genealogia di quest'ultima e proprio per questo mi viene da pensare come l'eterno ritorno possa essere visto in questa chiave nel senso che secondo me più che essere un modo per spiegare o per definire il tempo è più uno stratagemma per far sì che l'uomo possa diventare diciamo oltre uomo accettando il presente quindi per me si tratta semplicemente di un'accettazione del presente e quindi accettare che se si ripresentasse sarebbe come vivere in potenza quindi desiderando sempre che lo stesso attimo che abbiamo vissuto ritornasse quindi non ci vedo questa affinità con un paradiso con un eterno un paradiso in cui noi troveremo la felicità ecco la felicità sta nell'accettazione probabilmente di una condizione non così felice o paradisiaca ecco grazie va bene vi ringrazio le domande e rispondo per quanto per quanto ho capito battute soltanto la critica della legge non significa affatto che significa comprendere la legge come 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 misura di regolarità questo vale per Nietzsche anche dal punto di vista dell'interpretazione storica la storia non la storia e la e lo studio della storia possono aiutare a comprendere delle regolarità in determinate situazioni i comportamenti con i quali l'uomo li affronta tendono tendono a a ripetersi a ripetersi per modo di dire tendono ad assomigliarsi regolarità naturalmente sul piano storico il termine regolarità estremamente può assumere una connotazione molto generica nel senso della legge di natura molto cogente matematica ma regolarità sono leggi leggi inesorabili tutto il discorso ripeterei quanto ho già detto quello che è necessario è quello che sappiamo è necessario che questo evento sia accaduto è necessario che sia accaduto è accaduto questa è la necessità non che necessariamente doveva accadere ma è accaduto indiscutibile neanche gli dei possono far sì che non è accaduto questo è dove si colloca il momento necessità quindi una cosa che alla scienza interessa relativamente perché è del tutto presupposta analizzo questo accaduto questo evento accaduto è un vuoto presupposto ma se dico no questo evento doveva accadere è assolutamente certo che c'erano delle cause per cui questo evento doveva accadere così come è accaduto ecco allora interpreto la legge in una chiave di necessità in una chiave deterministica e non in quella chiave diciamo probabilistico statistica indeterministica che è proprio del discorso di Nietzsche e credo non solo del discorso di Nietzsche quindi certo che c'è sempre una causa certo se qualcosa avviene ci sarà una causa ci saranno delle cause ci saranno delle cause concomitanti ma la concatenazione di queste cause fa sì che quell'evento che accade sia un evento che va sempre descritto in modo probabilistico non vi è l'autore ve ne sono tanti complessi tra di loro e vanno interpretati letti e misurati secondo una prospettiva indeterministica e non deterministica il discorso di Parmedide e no non è l'E di Parmedide non è l'E di Parmedide perché l'E di Parmedide non si colloca propriamente nel tempo nel tempo per Parmedide c'è solo divenire il tempo di Parmedide è divenire e quella è il tempo e quindi è doxa non vi può essere scienza non vi può essere una scienza del divenire vi può essere un'opinione una doxa nella quale gli uomini a due teste dicono ecco ora questa cosa è e ora non è questo questo invece il la pretesa o l'istanza di Nietzsche sarebbe di quel presente mi pare che alcuni interventi abbiano colto quello quel presente ho insistito è un presente sulla terra è un presente di noi che viviamo il presente vi è forse una contraddizione in questo ma è così che Nietzsche pensa appunto non è il paradiso non è non è il nun chistanti paradisiaco non è il nun chistanti paradisiaco è vivere vivere sì vivere vivere sulla terra ma vivere sulla terra così che noi si sia così che noi abbiamo il tempo abbiamo il tempo abbiamo il tempo il tempo diventa totalmente immanente al nostro esserci presente non ci infuturiamo più non pensiamo più che il nostro presente abbia un senso soltanto perché domani arriveremo a quel fine domani arriveremo a quella meta ma è vivere il presente vivere il presente questo è l'istanza che muove Nietzsche ma ripeto questa può essere un'immagine me ne rendo conto quello che non è un'immagine è il problema che Nietzsche imposta e che non era tanto scontato al suo tempo cioè il tempo il tempo durata è realtà o è apparente il tempo durata la critica del tempo durata questo è il punto epistemologicamente rilevante che Nietzsche solleva per la filosofia anche successiva non era una cosa tanto banale questa è la questione dopodiché intorno a questa questione si possono costruire anche delle visioni del mondo o dell'immagine del mondo certo e quindi questo è entrambi in un campo assolutamente discutibile ma il problema la critica del tempo come durata è un problema di enorme rilievo senza di cui non si comprenderebbe nulla della filosofia contemporanea la volontà di potenza e qui c'è l'equivoco del termine stesso perché per Nietzsche volontà di potenza significa alla fine quello che ho detto io la somma espressione della volontà di potenza non ha nulla a che fare con la sete di dominio non ha nulla a che fare con il possesso la somma misura della volontà di potenza della tua capacità la tua forza l'energia con cui dismetti questa volontà di potenza interessante io ho scritto un saggetto una volta intitolato il Gesù di Nietzsche è vero sono impressionanti certe analogie ma sono esplicite nell'Uzaratustra sono esplicite nell'Uzaratustra che cos'è che non ammetterà mai Nietzsche che la parola dell'oltreuomo sia la parola del figlio è questo è questo no il Gesù è il figlio un padre è l'oltreuomo no l'oltreuomo è incompletamente faber fortune sue non dipende è come quello che si libera dalla caverna di Platone come si libera quello della caverna di Platone ve lo siete mai chiesti una voce divina gli ha parlato no è stato educato è andato a scuola no tic pura tic non ha accettato nulla a un certo momento quello lì si è scatenato beato lui ma nessuno mi ha mai spiegato come ciò avvenisse e così è l'oltreuomo di Nietzsche così è l'oltreuomo di Nietzsche e quindi non potrà mai accettare un oltreuomo che dipende da un padre c'è se deve essere oltreuomo ovviamente dipende da questo passato che l'ha partorito che l'ha generato ma Nietzsche è il primo a dire c'è una pagina un passo famoso di Nietzsche due uomini uno il più buono e l'altro il più saggio Gesù e Spinoza guarda caso tutti e due ebrei questa è una cosa che la sorella aveva messo da parte quindi questi rapporti ci sono c'è un passo dello Zaratustra dove pochissimi se ne sono accorti o meglio se ne sono accorti tutti ma nessuno ci ha lavorato sopra in cui la figura che emerge è San Francesco è San Francesco naturalmente anche lì no perché l'elemento religioso l'appartenere a una tradizione religiosa che evidentemente è incompatibile con il Freygeist nicciano ma tutti questi riferimenti sono riferimenti che vengono introdotti da Nietzsche come segni del superuomo dell'oltreuomo segni semaine segni tracce non in senso negativo come coloro che si oppongono al sottosuolo come coloro che si oppongono all'uomo del risentimento come coloro che si oppongono all'ultimo uomo come coloro che si oppongono all'idea di volontà all'idea di eterno ritorno espressa dalla scimmia di Zaratustra quindi tutti questi aspetti perché no si può lavorare sono prospettive che secondo me sono buone per una per un'interpretazione di Nietzsche fuori dagli dagli schemi e così anche certo io sono d'accordo con lei non abbiamo tempo ma di questo Agostino e come no e come no e Agostino una presenza la concezione il problema del tempo in Agostino potrebbe essere certamente recuperato sotto certi aspetti in Nietzsche poi secondo me è potentemente presente in Versant e l'inizio di essere tempo se non lo leggi avendo in mente Agostino non ci capisci nulla nulla è la pre-comprensione prima di ogni fenomenologia che Heidegger con cui Heidegger inizia a essere tempo che è citazione di Agostino quindi perché no sono tutte chiavi di lettura prospettive possibili che non contraddicono minimamente quella logico-filosofica e di nuovo appunto questa ricerca di superare lo stantio schema delle due culture la volgarità di queste separatezze astratte puramente intellettuali che non c'entrano nulla con nessuno dei grandi pensatori ecco mi sembra il grosso modo di aver risposto alle vostre domande vi ringrazio e vi saluto grazie Massimo Cacciari speriamo di averlo qua presto io personalmente ci conto Massimo grazie a tutti grazie a tutti